E' stato assegnato al sindaco di Assisi il premio della stele di bronzo che caratterizza il tradizionale appuntamento alla Ienca. Torna infatti domenica 9 agosto la giornata tanto attesa dagli amanti della natura e dai fedeli di Papa Voitila. Ci vediamo alla Ienca. Quest'anno la festa nel borgo, santuario di Papa Giovanni Paolo II, sarà pervaso dal gemellaggio ideale tra l'Aquila e Assisi. Noi spingiamo affinché si muova qualche cosa e faremo anche delle promozioni a Roma per quanto riguarda i turisti che arriveranno da tutto il mondo per visitare la città dell'Aquila e il santuario di San Francesco. Il borgo però, che aspetta di accogliere migliaia di fedeli, non è ancora pronto urbanisticamente. Carenze strutturali di bagni e parcheggi ancora preoccupano molto l'associazione che lo gestisce. Stanno facendo ora i bagni e non ancora sono pronti. Comunque abbiamo messo i bagni chimici, perlomeno c'è qualche cosa. I parcheggi? I parcheggi ci sono tempi penso molto lunghi perché il finanziamento che fu messo in bilancio proprio da me, che ero consigliere comunale, è di 3-4 anni fa. E non ancora si riesce a portare in porto il progetto dei parcheggi, molto importante perché domenica chi verrà su vedrà che non ci sono posti disponibili di parcheggio e la gente si dovrà arranciare sui campi dove può. Grazie a tutti.